Io non sono Yuki, sono Yuji Mishida, numero 2 di la Tonno Calipo. Anch'io per fare invidia ai brasiliani mi chiamo Gabriele Luciano Giovanni Condorelli, ma chiamatemi solamente Gabriele Condorelli e sono il numero 3 della Tonno Calipo. Ciao, sono Giovanni Maria Gargiulo, Giovanni Maria Gargiulo con una sola L, non con due. Porto il numero 4 e sulla mia maglietta c'è il mio cognome. Se volete non chiamarmi Maria, va bene, lo stesso, va bene anche Giovanni Gargiulo. Ciao ragazzi, io mi chiamo Maurizio Borges, Almeida Silva, sono la mia maglia numero 5, Maurizio B. Com'è? Avrete vita facile. Mi chiamo Fabio Bisi, sono il numero 7 della Tonno Calipo. Non potete confondervi, io sono Davide Saitta, numero 8 della Tonno Calipo. Ciao. Ciao, sono Davide Candellaro, il numero 9 della Tonno Calipo. Come negli ultimi 15 anni è sempre stato Candellaro. Ciao, sono il numero 10 della Tonno Calipo. La gente spesso mi chiama Luca Basic, o in Italia Luca Basic, però il mio vero nome è Luca Basic, però potete chiamarmi come volete. È complicato ricordarsi il mio nome? Sono Marco Rizzo, il numero 11 della Tonno Calipo. Ciao a tutti, sono Flavio Cesar Resende Gualberto. Sulla maglia della Tonno Calipo numero 13 ho scelto il nome Flavio. Il mio nome è Douglas Correa di Sousa. La pronunciazione certa è Douglas, Douglas. Ciao, sono il numero 15 della Tonno Calipo Vipo Valencia. Sono Partenio, ma Pierpaolo. Anche a me capita che il mio cognome venga pronunciato male. Io sono Alberto Pio Nico Tra e sono il numero 16 della Tonno Calipo.